In arrivo nuove cure per combattere il covid, ma, spiega il ricercatore Lecchese Davide Corti, il vaccino resta il modo più efficace e meno costoso per vincere la pandemia. Niente da fare per gli appassionati della Moto Guzzi, rinviato il motoraduno del centenario, troppe le limitazioni per la pandemia, dice il sindaco di Mandello, sarà festa nel 2022. Torna il 7 agosto e malsassina la Sagra delle Sagre, per accedere sarà necessario il Green Pass, ma gli organizzatori pensano a un servizio tamponi all'ingresso. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV, edizione di Lecco. Passo avanti nella cura contro il covid. Stanno per essere approvati cinque farmaci che hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre le complicanze della malattia. Tra questi l'anticorpo monoclonale scoperto dal ricercatore lecchese Davide Corti, che però avverte fondamentale continuare a vaccinarsi, soprattutto per contrastare la variante Delta. È l'unico modo per sconfiggere la pandemia. Davide Corti, biotecnologo, direttore della ricerca della società americana Virra. Anticorpo monoclonale scoperto lo scorso anno è diventata una cura, una medicina che si potrà utilizzare anche in Italia. Ma a che punto siamo con le cure contro il covid? Ma appunto gli anticorpi monoclonali, tra cui il nostro, rappresentano una delle cure possibili per i soggetti, soprattutto quelli più a rischio che si infettano. E c'è ampia dimostrazione che gli anticorpi a disposizione sono in grado molto efficacemente di far sì che il decorso della malattia non porti a delle infezioni troppo gravi, troppo severe, quindi prevenire l'ospedalizzazione. Ovviamente le cure a disposizione, che a questo punto sono quattro anticorpi monoclonali nell'ambito europeo e anche un farmaco immunosoppressore della ditta Lilly, che è stato dimostrato avere una qualche efficacia nei soggetti già ospedalizzati, rappresentano un'arma in più che abbiamo, ma dobbiamo comunque ricordarci che i vaccini sono la prima linea di difesa e è molto importante che i vaccini continuino ad essere utilizzati soprattutto per i soggetti a rischio e mi riferisco alle persone oltre i 50 anni. Insomma, quando a ottobre questi farmaci, queste cure saranno ufficializzate, bisognerà comunque continuare a vaccinarsi, è questo l'invito? Assolutamente sì, la disponibilità di cure non sostituisce l'importanza dei vaccini. Dobbiamo assolutamente ricordarci, adesso abbiamo a che fare con una variante del virus molto più preoccupante dal punto di vista della trasmissione, che se questa variante fosse circolata un anno fa in assenza dei vaccini, la situazione sarebbe stata purtroppo molto più difficile da gestire. Ma per chi? Con che tempi e con che costi? Questi anticorpi e soprattutto quelli che dimostrano e continuano a dimostrare un'efficacia nei confronti delle varianti del virus, devono essere utilizzati nei soggetti che sono a rischio. Quindi quando questi si infettano, in una fase precoce della malattia, gli anticorpi sono in grado di controllare l'infezione ed evitare con un alto grado di successo che la malattia evolva nel senso purtroppo di portare all'ospedalizzazione o alla morte. Il costo di questi farmaci è un elemento che in questo momento viene gestito dai sistemi sanitari e per quello che è stato visto in passato si è girato nell'ordine dei 2.000-3.000 dollari a dose. Costa meno un vaccino? Costa molto meno un vaccino, ma nel caso di un soggetto che si è già infettato, ovviamente il vaccino a quel punto non può essere utilizzato. Per un anno non potranno frequentare gli esercizi pubblici presenti in quella zona e nemmeno stazionare nelle immediate vicinanze. Quest'ora di Lecco, Alfredo D'Agostino, è messo 8 d'aspo nei confronti dei giovani coinvolti nella rissa scoppiata il 5 giugno in Piazza Affari. Anche per gli altri episodi di violenza registrati a Lecco sono stati denunciati tutti i responsabili. Infine, in quest'ora è emesso 8 avvisi orali e revocato 5 permessi di soggiorno. Non si terrà il motoraduno del centenario, attesissimo appuntamento da parte degli appassionati di motoguzzi di tutto il mondo. Troppe le limitazioni imposte dalla pandemia, spiega il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli. Festa rinviata al 2022. La pandemia ha sconfitto il motoraduno del centenario. L'attesa edizione 2021 delle GMG, giornate mondiali guzzi, non si terrà, come programmato, dal 6 al 12 settembre. Con grande rammarico, Motoguzzi, il comune di Mandello e il comitato organizzatore del motoraduno hanno dovuto prendere atto delle indicazioni delle autorità e delle raccomandazioni in merito alla situazione sanitaria, prendendo la più sofferta delle decisioni, cioè la cancellazione dell'evento. Le condizioni attuali e le conseguenti limitazioni imposte dallo stato della pandemia, spiegano in una nota, la casa motociclistica, il comune e gli organizzatori avrebbero fortemente compromesso la possibilità di offrire alle molte migliaia di appassionati, previsti in arrivo da tutto il mondo, un evento all'altezza delle aspettative. I festeggiamenti per il centenario sono però solo rimandati. La città di Mandello e Motoguzzi faranno in modo che nel 2022 si possa celebrare questa importante ricorrenza in sicurezza, libertà e totale divertimento. Ci abbiamo sperato fino all'ultimo, ma l'evoluzione della pandemia non ha permesso quell'allentamento delle misure anticontagio in cui speravamo, spiega il sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli. Non ci sono le condizioni per poter offrire un evento all'altezza delle aspettative e dell'irripetibile festeggiamento dei cent'anni. Il rinvio permetterà agli appassionati di tutto il mondo di festeggiare con noi a Mandello in un vero moto raduno in piena sicurezza e serenità. Il sindaco di Lecco con un'ordinanza ha stabilito l'immediata chiusura al pubblico della falesia delle placchette del San Martino settore destro e l'immediata chiusura al transito del sentiero che conduce al rifugio piazza Chiesetta del San Martino a partire dal rione di Rancio. La misura urgente si è resa necessaria a seguito del distacco di materiale roccioso dalla falesia dovuto presumibilmente agli eventi atmosferici degli ultimi giorni. Domenica 1 agosto è sospesa dunque anche la navetta di Lineeleco verso Rancio San Martino. Lo spettacolo di Giacomo Poretti chiedimi se sono di turno, le parole dell'attrice Maya Sansa e ancora il confronto sul tema delle pari opportunità tra uomini e donne. Iniziata la seconda edizione dell'Eco Film Fest. Cinema e cultura, protagonisti della seconda edizione dell'Eco Film Fest, promosso da Confindustria L'Eco Sondri organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo. Occasione per confrontarsi sul tema delle pari opportunità tra uomini e donne. Il festival è iniziato con un momento di confronto sulla gender gap e sulla posizione dell'Italia che è al 63esimo posto nel mondo. Spazio anche al tema della cura con lo spettacolo di Giacomo Poretti, chiedimi se sono di turno, ieri sera al Cenacolo Francescano, e l'intervista tutto tondo all'artista che ha fatto sorridere e insieme riflettere la piazza. Ho parafrasato un po' il titolo di un nostro film che ha avuto molto successo e mi sembrava adeguato a questo spettacolo che parla delle corsie di un ospedale ed è raccontato dal punto di vista dell'infermiere. E perché la storia dei turni? Perché uno dei problemi degli infermieri quando lavora in ospedale, insieme al sonno è quello di farsi dare delle ferie, e invece quando ti comunicano che non puoi andare in ferie e hai il turno di notte, allora gli infermieri e i medici, aggiungo, sono eroici sempre, anche in assenza di Covid, fanno un lavoro veramente oscuro e è incredibilmente importante. Certo non se ne parla perché nessuno ha mai voglia di parlare della malattia ed è giusto che sia così, però fanno un lavoro tostissimo. Poi Maya Sansa, Casa Parigi, due film al prossimo Festival di Venezia, Ciò che fa bello il mondo, il titolo della rassegna, l'attrice non ha avuto dubbi, l'empatia. Io penso che l'empatia sia la base perché le relazioni tra gli uomini, tra le persone che convivono, cioè il fatto di mettersi nei panni dell'altro, di comprendere la gioia, il dolore, la sofferenza, le motivazioni dell'altro, sia il sentimento che ci rende più forti, più generosi, più altruisti, più belli, che ci aiuta a rendere il mondo più bello. Oggi qui all'Eco Film Fest, ma ricordiamo che lei sarà con due film al Festival di Venezia. Sì, sarò al Festival di Venezia con il film di Laura Bispori, Il Paradiso del Pavone, Orizzonti e Orizzonti Extra con il film di Antoinette Boulin, Magny. Conto alla rovescia in Val Sassina per l'appuntamento più atteso dell'estate, apre il 7 agosto la Sagra delle Sagre, giunta alla sua 56esima edizione. Per entrare quest'anno servirà il Green Pass, ma gli organizzatori stanno pensando a un servizio tamponi all'ingresso. Non si ferma mai, torna dunque anche quest'anno la Sagra delle Sagre dal 7 di agosto. Innanzitutto la modalità servirà il Green Pass. Sì, il Green Pass entrerà in vigore il 6 di agosto, per cui la vigilia proprio il giorno prima che inizierà la Sagra delle Sagre. È stato introdotto dal DL, noi siamo organizzatori, ci dobbiamo attenere alla legge. Ho letto molte polemiche, io non posso fermarmi alle polemiche, devo trovare soluzioni. Faremo un controllo agli ingressi, chi avrà il Green Pass nessun problema o chi avrà il tampone negativo già fatto entro le 48 ore. Stiamo valutando di poter far fare dei tamponi e questo lo sapremo nei prossimi giorni, se e in che orari sarà possibile farla. Per il resto tante novità, anche quest'anno quali sono? Tante novità, quest'anno più che gli altri anni. Un'area dove faremo sport tutti i giorni, dove organizzeremo incontri, dibattiti, approfondimenti su diverse materie. Sono già in programma, ad esempio, per la domenica degli incontri di Pugilato, per il lunedì il premio Sagra, il martedì faremo invece un simposio con il Panathlon, la dottoressa Iroldi, su la salute nel fare sport. Tante cose, oltre agli spettacoli serali e a tutto quello che si è oramai abituati in queste 56 edizioni di Sagra delle Sagre. E non mancherà anche il premio Sagra, a chi lo darete quest'anno? Il premio Sagra quest'anno abbiamo voluto darlo ai sindaci del territorio, perché in questo anno di pandemia sono stati veramente un baluardo nel prodigarsi per aiutare la gente in tanti servizi e sono stati un punto di riferimento e per questo gli vogliamo ringraziare. La dolce musica dell'Arpa sveglierà domani mattina in Malgratesi. Sul lungo lago alle 8 un suggestivo concerto aprirà Albe e Tramonti in musica sul lago di Lecco. Rassegna nell'ambito del progetto L'Ac Sublime. Domani un suggestivo concerto certo, aprirà la giornata a Malgrate. Di che cosa si tratta? Parte proprio la rassegna Albe e Tramonti in musica sul lago di Lecco. Abbiamo avuto due prime tappe di anteprima ma in realtà la vera partenza è domani 31 luglio alle 8 del mattino sul lungo lago di Malgrate avremo l'Arpa di Alessandra Ziveri pronta ad accoglierci e a farci iniziare naturalmente la mattinata con delle note che ci accompagneranno in realtà poi nel prosiego di tutta la giornata e che sostanzialmente apre realmente questa importante rassegna che andrà avanti sino al 9 di ottobre ininterrottamente e che avrà come seconda tappa in agosto il 9 di agosto ad Abadi Al-Ariana e il 13 a Perledo sul magnifico sagrato della chiesa di San Martino con viste panoramiche splendide in entrambi i casi per poi proseguire a Valmadrera proseguire a Civate proseguire a Dolgiate e Molgora è proprio la sponda Lecchese in collaborazione con la fondazione provinciale delle Chiese che riesce a realizzare questa manifestazione importante. Oggi è 30 luglio e siamo alla chiusura del Festival di Bellagio del Lago di Como questa sera chiuderemo nel Grand Hotel Cerbelloni di Bellagio con un omaggio doveroso al maestro Morricone e domani mattina invece partiamo con Albe Tramonti sul Lago di Lecco trasferendoci naturalmente nella provincia Lecchese e cercando di assaporare al meglio e vi aspettiamo quindi domattina magari per fare anche colazione insieme con un buon cornetto un buon cappuccio e soprattutto tanta bellissima musica. L'appuntamento ricordiamo dov'è? È proprio sul Lungolago nello spazio a Tiguo al ristorante Il Covo quindi dove abbiamo una piccola copertura anche per l'eventuale maltempo ma domani è previsto bello quindi dovremmo riuscire a farcela. Stasera alle 8.30 in onda la trasmissione di Unica TV dedicata al grande alpinismo in questa puntata Nando Musdeo e Luca Schiera ci porteranno in Val Masino sul picco Luigi Amedeo Io prima di chiudere vi ricordo che potete seguire tutte le nostre news in tempo reale sul nostro sito teleunica.com su tutti i nostri canali social Grazie per essere stati con noi Buona serata Grazie per la visione